Voi sapete come fa? Sì! E siamo nati in una stanza, ci respiriamo senza paura, infatti andiamo alla distanza. Tu parlami tanto senza dire nulla e dimmi cosa vuoi fare. Se io ti capisco guardandoti in faccia non serve nemmeno a spiegare che non mi frega niente, se poi ti perderò. Siamo amianto pericoloso, non possiamo stare insieme però, se non mi frega niente, se poi ci perderemo. Siamo amianto dentro una stanza ed esploderemo, noi esploderemo, si esploderemo. Tu parlami tanto senza dire nulla e dimmi cosa vuoi fare. Se io ti capisco guardandoti in faccia non serve nemmeno a spiegare che non mi frega niente. Bologna Noi non mi frega niente, se poi ci perderò. Siamo amianto pericoloso, non possiamo stare insieme però, se non mi frega niente, se poi ci perderò. Siamo amianto pericoloso, non possiamo stare insieme però, se non mi frega niente, se non mi frega niente. Siamo amianto pericoloso, non possiamo stare insieme però, se non mi frega niente. Siamo amianto pericoloso, non possiamo stare insieme però, se non mi frega niente.